Cosa rende unico il vino italiano? Come si diventa uno degli esperti più quotati al mondo in questo settore? Di quali regioni italiane sentiremo parlare in futuro? Tutto questo e molto altro lo abbiamo chiesto a Luca Gardini, il miglior critico al mondo di vini italiani. Al dente, come la cottura della pasta, che per noi italiani è sinonimo di perfezione. Qui, con ospiti di eccellenza, parliamo d'Italia nelle sue espressioni migliori. È pronto! Al dente, l'Italia ha regola d'arte. Allora, io ho letto un po' della tua biografia e diciamo che hai fatto tante cose, quindi però partirei da forse l'esperienza, poi lo lascio dire a te, che ti ha segnato, ti ha dato l'impronta, ne stavamo parlando anche prima di entrare qui in studio, che è l'Enoteca Pinchiorri, giusto? L'Enoteca Pinchiorri è un'esperienza unica. Per me è stato l'inizio, ho partito da lì, devo dire che avere il signor Pinchiorri, Giorgio, come mentore, quella scuola, quel tempio, quel museo del vino... A Firenze, no? A Firenze, siamo a Firenze, via Ghebellino 87, quindi è stato... Ho ancora i brividi a pensare, perché arrivi lì da super giovane... In che anno era circa? Adesso non mi ricordo, 2002, giù di lì, anno più, anno meno. Arrivi lì, quindi ti trovi in mezzo a questa super cantina, con tutti i mostri sacchi, dei vini, che leggevi solo per studiare, per fare i concorsi, avevi la possibilità di toccarli, di berli. Era tutto reale, era tutto tantissimo. Proprio di assaggiarli, divertentissimo, oltre che un'esperienza per il palato unica, quindi lì mi sono formato, ho affinato la mia cultura a livello di palato, non di studio, perché poi Picchioli è sempre una persona... Come fai a non vendere il vino se non lo bevi? Quindi aprivo, te lo faceva bere, poi mi chiamava Trimpilin, che vuol dire in gergo toscano, fiorentino, ragazzo, Trimpilin, bambino, Trimpilin, quindi ci sentiamo ancora tutti questi anni. C'è ancora un bel rapporto. Bellissimo, poi lui è speciale, quindi quando di fronte è una persona speciale, buon animo e soprattutto un motivatore, lì ti fa la differenza. E ti è servito immagino anche poi leggendo tutto quello che hai fatto e tutti i titoli che sono arrivati, che magari arriveranno ancora in tutti questi anni, ti è servito proprio per farti le spalle, no? Come si suol dire? Beh, sì, mi è servito molto. Io dicono che ho un talento, però il talento senza sacrificio non va da nessuna parte. Puoi avere tutto il talento che vuoi, per oggi ci vuole impegno e sacrificio e devo dire che lo spirito di impegno e sacrificio mi appartiene, ma Piccori me l'ha fatto proprio capire. Tirato fuori. Sì, me l'ha tirato fuori, me l'ha saldato addosso, me l'ha cucito addosso come un arbitro sartoriale, quindi devo dire che... Beh, devo tanto. Devi tanto a lui, devi tanto a... A tanta altra gente. Io avevo poi un maestro che mi seguiva per i concorsi, che è Giancarlo Mondini, che mi allenava, mi reperiva tutti i vini da tutto il mondo, mi faceva delle domande teoriche, perché non è solo bene. Però da lì non è più smesso di bere, diciamo. Io non dico degustare, bere, bere in maniera consapevole, però bere. Cioè io le sputtacchie le odio, cioè piuttosto ne bevo poco, ma sputtano, no. I gargalismi non li faccio col vino, ecco, li lasciamo agli altri. Li mando tutto giù. Piuttosto ne bevi un po' meno, ma lo mandi giù. Questa già... Tu insomma, si sente dalla parlata che sei romagnolo? 100%. Lo diciamo, io poi ho letto insomma... Sì, sì, sono di Sergio Milano Marittima, anche se abito a Cesena adesso. E quindi questo è anche un po', no, il modo conviviale anche di vivere... Eh sì, noi romagnoli siamo un po' così, no? Ci piace fare... E il vino accontenta tutti. Ci piace far cacciare, no? Vini in Romagna prima cosa si danno un bicchiere di vino, capito? Certo. E da lì poi come si diventa il miglior sommelier al mondo? Beh, allora, quello... C'è un giorno, c'è un ITER, con tutte le cose, ha fatto campione italiano, europeo, mondiale, però, se quello è un giorno, c'è tanta gente che ha vinto, prima, vincerà, ha vinto dopo, e ci deve arrivare, però il problema, se no, è mantenersi, nel senso che, mantenere il palato, mantenere la costanza negli anni, essere sempre sul pezzo, essere sempre di presente, deve essere forte mentalmente, questo, come tutti i lavori, deve essere forte di testa. Poi ho avuto questa grande fortuna, per molti mi hanno assaggiato a Maradona del vino, capito? Perché ho sto genio, come parallelismo, sto genio così, anche un po' pastoidi, sono anche un po' pazzo, nel senso positivo, la parola è un po' crazy, no? Però, il talento, ti ripeto, non aiuta, se non c'è la base di studio, e di formazione, e di impegno. Proprio, a me piace tantissimo, mi esce naturale, che a livello di palato, ma anche a livello, proprio fisico, poi mi piace condividere, mi piace stare a contatto, girare, ho visto quasi tutte le zone amiche del mondo, a parte la Nuova Zelanda, meno male, ci sono stati, una volta, ti esperimentano, trovo tutto, io vado a non usare anche la terra, e forse è quella cosa, che ti dà, magari anche, quel valore aggiunto, rispetto a, chi fa il tuo stesso mestiere, no? Io, penso che il valore aggiunto, questo, è una delle parti, sicuramente, la schiettesa, cioè io vedo che, sei diretto, sì, in questo mondo qui, dell'enogastronomia, poi ho avuto la fortuna anche, di lavorare tanti anni, da Cracco, quindi da Firenze, mi sono scusato Milano, quindi grandi ristoranti, poi in quegli anni lì, veramente, la ribalta, cioè, vent'anni fa, c'era un altro percepito, cioè, pensare che, la più grande manifestazione, che facciamo in Italia, che è identità Golose, nata venti, ventidue anni fa, capito, e trent'anni fa, c'era già proprio un altro percepito, la cucina di adesso, che ho avuto, della gastronomia di adesso, quindi è importante. Infatti, volevo chiederti anche, come funzionano un po' questi titoli, parlavi prima, del campione italiano, in Europa, nel mondo, queste competizioni, come funzionano, ce li spieghi un po'. Allora, c'è tutta una parte teorica, molto importante, quindi di studiare tutto quello che è, l'enologia, l'enografia, di vinicola, poi non è solo vinicola, quindi c'è l'enologia, quindi la storia, i prodotti alimentari, di birra, cioccolati, i tè, gli abbinamenti tipici, c'è tanto studio. Avevi domande sui tè, su tutti i distrati a tequila, amari, le equitanze tipiche, gli abbinamenti tipici, in tutte le regioni vinicola del mondo, quindi vai a mangiare un piatto portoghese, con quel tipo di vino portoghese. Poi adesso sempre di più, correggimi se sbaglio, il food pairing. Sì, ecco io sono stato, questo ci tengo a dirlo, che mai non te l'ho detto prima, è stato uno dei primi a lanciare gli abbinamenti creativi in Italia e nel mondo, ti parliamo di vent'anni fa, una cucina sperimentale come la crea di Chiraco ti permetteva di essere un po' estroverso. Io ho lanciato gli abbinamenti creativi, ma ti parlo veramente di vent'anni fa, quindi so, facevo il triplo abbinamento in un piatto, ti preparavo il palato con un tè, poi ti davo un vino, poi ti davo un cotto e alla fine... Creavi il percorso giusto. tre abbinamenti in un piatto, quindi preparare il palato durante e dopo, non so, i primi cotti, addirittura abbinamenti con i succhi di frutta, abbiamo fatto con la pagole, tutto, che poi ci sta, ci deve essere sempre un rigore, però in quello che si fa, ecco, nella mia pezzia ho un gran rigore, cioè, quello è, quello deve essere. Si, credi in quello che fai e ci tieni a mantenere certi paletti. Oltre che deve essere vero, devi crederci, deve essere buono, poi devi anche saperlo raccontare, perché poi la gente la devi non solo invogliarla col gusto, ma devi anche invogliarla mentalmente, la devi preparare. Devi convincerla poi, devi prepararla e poi convincerla. Prepararla col palato e poi la convincerla col piatto e poi gli dà la saccagnata col vino. La saccagnata? Sì, la saccagnata è un po' romagnola, è uscita così. Infatti è bello, facciamola uscire questa parte qua. E con Cracco hai collaborato, hai lavorato con Cracco per circa sette anni. E come è andata? Bellissima esperienza, se non stavo bene non ci stavano tutti quegli anni. Beh, lui è molto bravo a tirare fuori il meglio delle persone, è un più grande professionista, poi sai, la gente parla, la gente dice, però ho fatto sette anni di rifare tutti perché è stato un percorso, un pezzo della mia vita professionale che non voglio e non posso dimenticare per quello che mi ha dato. Certo. E quindi è un grandissimo professionista e va solo che rispettato. Ed è come, così curiosità anche mia, ed è come si mostra in tv poi in cucina. Avete cinque minuti? Beh, certo mi sgridavo anche a me, ma è normale perché sai cos'è? È proprio lì, è proprio come quando c'è un gran primo di Formula 1, non puoi mollare un secondo che se fai una sbavatura vai fuori. Dai, puoi raccontarci quella volta che ti ha ti ha casseato. Tutti i giorni mi cazzeava. Per? Per tutti gli anni. Ed è quella la cosa forse che poi non è che cazzeava. Ti teneva teneva la tensione perché in questo lavoro qui tenere sul pezzo. Vabbè, in quegli anni di lavoravamo tantissimo però quando c'è un momento di magari un po' di calo di lavoro che vuol dire che non sei vuoto magari fai invece di 100 ne facevi 75 ti cala la tensione e da lì facevi l'errore. Lui era bravissimo invece a tenerti sempre la tensione alta per non sbagliare. Poi ovvio gli sbagli succedono perché quando lavori è normale però devo dirti che in tv fa così perché in questo momento c'è anche un po' di copione questo poi non lo so perché non si sono dietro dietro il tv però sicuramente il carattere forte deciso il carisma ce l'ha dentro se non è che te lo puoi inventare il carisma non è che te lo inventi. Ce lo devi avere come dicevamo prima è un po' come il talento poi tipo lo puoi alimentare forse no? Dalle esperienze che fai da le varie relazioni che uno ha e come si disegna una carta dei vini diciamo a regola d'arte visto che stavamo parlando prima di abbinamenti stavamo parlando prima di creare un percorso di ristoranti stellati che sempre di più hanno bisogno di una carta dei vini la carta dei vini allora oggi giorno fare una grande carta dei vini secondo me molto lunga con tante eccellenze non c'è senso nel senso io all'epoca volevo lanciare al temple di etichette conosciute quindi i brand conosciuti che possono essere posso fare dei nomi del Don Perignon sia così poi avere dei vini dove io andavo a cercare e trovavo che ogni mese li cambiavano così ti permetteva di non avere una grande cantina però ogni mese devi avere 100-110 vini diversi e nell'arco dell'anno avevi 1000 etichette come si fa si fa in base sicuramente devi tenere un po' conto di tutto tipo di ristorante in cui lavori la tipologia di cucina se è più o meno creativa più basata sul pesce più tradizionale se è più cacciagione ovviamente si va a stringere un po' la forbice il range la forbice la stringe poi sicuramente devi metterci un po' della tua personalità devi andare a toccare un po' tutti i campi il vino naturale il vino macerato il vino a cultura biodinamica le preferenze classiche e poi devi dare quel 5% di estero che deve essere quello che inventarti le mini abbinamenti già prescritti nella carta dei vini mettiti dei vini in bicchieri particolari andare a trovare la novità magari mi propone anche un vino straniero che non so adesso per esempio io sono molto flippato in questo l'ultimo anno dall'Albania sta facendo dei vini fantastici nella parte di Verat quindi a un'ora da Tirana c'è questa zona che fa dei vini bianchi c'è questo UAPULS bianco che sta dando degli ottimi risultati quindi c'hai sempre un po' la testa anche attenta a vedere dove vanno le nuove tendenze nuove aree dove stanno producendo bene dove ci sono dei climi che puoi produrre il vino poi a me piace quando c'è la parte del vino locale c'è proprio si risalta il vitigno locale quindi devi andare lì e trovare sono stati due volte quindi questo qui se fosse un ristorante lo metterei lo proporrei perché c'è qualcosa da raccontare non è il vitigno che è il solito scontato non è banale non è il solito magari il vitigno che puoi trovare è un gusto unico e c'è solo lui quindi non è una cosa che è ripetibile certo e quanto ci si mette per creare cioè dal momento in cui uno inizia a lavorare sulla carta dei vini a quando poi non so fai i vari test alla chiusura finale con due bottiglie una mezza giornata la faccio bevo due bottiglie ma sì c'è l'esperienza capito quando sei 7-8 ore di lavoro ti metti lì butti sui classici nomi poi ovviamente io adesso ho più tempo di girare quindi scoppoli più magari i miei amici che non ho tantissimi perché sono tanti bravi i sommigli oggi e comunicatori perché anche chi sta al ristorante comunica il vino perché propone il vino ogni giorno quindi quella è una forma di comunicazione fatta in tante forme la comunicazione del ristorante è molto bella perché devi essere non pesante devi capire sempre che hai davanti però devi dare delle nozioni essendo leggero ma essenziali e poi devi essere bravo tu a far cambiare il gusto anche al cliente perché c'è una volta mi capitava che ci sono dei clienti che vengono sempre il stesso vino bene puoi quello bene questo te lo offro io questa è tipica di chi ha personalità ma quel bicchiere e i gardini ma hai detto che il vino speciale l'abbiamo finito così gli aumentava il desiderio poi lo riprende lo riprende dopo un mese ma devi giocare non giocare devi anche fare un po' il ping pong il ping pong nobile ma un po' di ping pong con i clienti però devo dire che oggi sono un sacco di colleghi bravissimi in Italia che apprestano tantissimo perché oggi è anche questa la novità andare a cercare vitigni con qualità ovviamente parlando sempre di qualità magari in aree meno conosciute meno vocate oppure che noi non conosciamo perché alcuni ci fissiamo sempre su delle solite cose però devo dire che oggi il mondo energetico ti permette di spaziare molto ed è bello è bello perché il vino è condivisione il vino è terra il vino è dei sporcati qui in questo set che vedi di al dente non ti offendi se prendiamo il vino della casa ma benissimo io ho il vino del contadino ma io ci vado ancora il vino del contadino con il mio amico Polly andiamo a mangiare nelle trattorie abbiamo il vino della casa e vai di vino della casa ma perché alla fine quando stai bene ovvio la qualità è importante ma anche il vino della casa ogni tanto non è che fa male fa bene un bicchiere le vecchie osterie di una volta infatti noi abbiamo cercato di creare infatti noi romani nel tovagli qui c'è qua i quadrettoni se noi usiamo i tuoi tovaglioli i torcioni usiamo per così i quadrettoni questa è un po' la tradizione esatto tu sei visto poi come parlavamo prima di comunicazione sei un comunicatore come anche un rivoluzionario in questo ho letto che per fare un parallelismo hai vinto tipo come nel calcio il pallone d'oro nella comunicazione Cavaliere della Repubblica nel 2015 il titolo lì Cavaliere della Repubblica mi ha fatto 17-18 proprio ho fatto il codice Gardini nel 2015 che ha rivoluzionato la comunicazione quello è stato sì che l'ho fatto quello che ha detto lo sport mi ha stampato anche in italiano inglese e spagnolo ok e lì diciamo che ho rivoluzionato un po' tutto quello che fanno le stesse situazioni perché entrando un po' più nel tecnico mettono dei concetti le varie situazioni non me ne vogliono però mettono dei concetti troppo cioè fanno troppe adesso non so chi termine usare perché tra il caso la tagliamo tra i pimpimentali diciamo ecco quando viene e viene il vino è una cosa che va presa e devi dire quello che c'è quindi ho rivoluzionato ci sono andati da non so quanti aggettivi sono le situazioni l'ho portato a una semplificazione di 12 aggettivi dove ho messo la testa quindi il testa la mente il cuore la piacevolezza dove ho spiegato anche bene l'abbinamento perfetto non esiste esiste l'abbinamento ideale ideale per te perché sì a me piace questo non so cioè soggettività io ho visto una volta c'era un al mare uno che mangiava le ostiche crude e beve il barolo fresco questo qua c'era una fazza era contentissimo ovviamente l'orgasmo non gastronomico quando si può parlare esiste io l'ho provato oh mi è piaciuto anche a me ma è quello che dico ancora adesso il carciofo non sta bene ma stanno dicendo delle cavolate assurde c'è tipo di carciofo carciofo come viene cotto come viene fatto ci sono dei carciofi che sono burro sono dolcissimi quindi si tratta un po' di essere un po' più open mind le associazioni sono close mind cioè questo mondo è fatto di apertura di provare di scoprire di sperimentare e questo è importante è ancora poco inclusivo il mondo e poi ti dico tornando prima il codice verdina ho rivoluzionato poi dopo l'anno scorso ho avuto la fortuna di vincere questo riconoscimento come miglior critico di vini italiani al mondo che lo vincevano da molti anni gli americani è stato il primo italiano a vincerlo questo mi ha fatto molto piacere perché proprio su quello ho fatto studiato per quello proprio palato palato poi dopo è vero mi esce naturale mi dicono il mio sito si chiama The Wine Killer perché sono molto forte di venire il vino a cieca ti indovino Annata Vittino magari nella prossima puntata che verrà se verrai qui facciamo una puntata solo però ti dico per me la base oggi di quello che è il vino è la condivisione divertirci con cultura insegnare non essendo pesanti non far troppi professori ma lasciare qualcosa io quando ho tanti ragazzi che mi chiedono consigli così non faccio mai io ce la so più di te devo dargli l'input devo vedere i punti di forza svilupparli valorizzarli e dai tutti possono arrivare non c'è chi è più o meno bravo poi c'è chi lo fa di lavoro come me quindi sul tecnico dopo lì vai giù e dai secca però c'è tante possibilità il mondo del vino non ti permette di fare tante cose chi comunica chi scrive chi lo fa al ristorante chi fa winecreti chi fa magari i tour racconta le storie dei paesi delle vigne c'è una formice ampia sempre di più però la comunicazione è sempre più importante sì io penso in Italia siamo rimasti molto dietro sulla comunicazione del vino perché oggi la comunicazione del vino è ancora fatta di paragone io quando sento dire l'Etna è come la Borgogna anche di gusto non è così perché l'Etna è un terreno vulcanico attivo che fanno le vigne da 600 fino anche a alcuni casi agli altri 4.000 metri dove c'è da vini di una struttura e non si è differente quindi il problema oggi è italiano che noi non ci dobbiamo paragonare noi ci dobbiamo collocare dobbiamo spiegare i punti di forza delle zone le caratteristiche di quella zona di quel vitigno e l'impronta stilistica e la filosofia poi dopo la gente che c'era ma se noi ci dobbiamo sempre paragonare o i francesi o altri vini questa non è comunicazione noi dobbiamo comunicare i nostri punti di forza questo vino è fatto così perché c'è questo stile di territorio questo stile di produttore questo stile di sentore così così che è questo è suo e unico cosa manca alla comunicazione in italiano un po' di nervo un po' di prima di tutto di apertura mentale cultura poi tutti pensano perché fanno un corso così possono poter parlare di vino ma non è così punto perché è questa la verità ma stai scherzando non è perché fai un corso del sommelier o fai due livelli del sommelier vuol dire che tu capisci di vino e poi parlare di vino ma è tutt'altro se loro ti danno un'infarnatura io prima di poter andare a giudicare un vino poi non supporto quelli che parlano male del vino io piuttosto se non piace il vino non ne parlo la critica negativa fa sempre male se chi parla male solo perché può avere il potere dipende dall'altra parte chi legge magari non sa che quello che scrive non capisce niente parlare male di un vino dove c'è gente che veramente ti fa male io se trovo qualcuno così io non dico cosa gli farei perché siamo qui in questa subito sprendita intervista difendi la categoria difendi tutta la tutto il settore col cuore ogni tanto bisogna un po' anche sedersi ogni tanto a voce ferma e dire ma cos'è che non vado e penso che l'Italia l'Italia a livello di produzione vinicola di qualità ha fatto dei passi e sta andando su come uno space shuttle cioè proprio a cannone la critica la comunicazione non sta seguendo questa perché ti ripeto la comunicazione fatta in critica negativa non porta a niente la comunicazione fatta se non sai non conosci ma pare per sentito dire non porta a niente quindi ci dovrebbe essere qualcuno che tuteli questo io un po' nel mio lo faccio intanto lo faccio e poi ti ripeto c'è spazio per tutti ma ci vuole anche essere una linea guida tracciare una linea però dai devo dire che ci stanno vendo su dei ragazzi giovani adesso sono giovane anche io però rispetto sono già vecchio un po' nel mio lavoro perché ho iniziato veramente presto però vedo dei ragazzi giovani che stanno vendo su bene bravi con rigore questo è importante perché come nel vino ci vuole rigore stilistico anche come lo comunichi ci vuole un rigore noi ci proviamo con questo podcast anche a tirar fuori un po' di messaggi soprattutto anche per i giovani che saranno il futuro poi in generale ma anche in questa categoria siamo qua a posto e la differenza invece tra quello che noti l'Italia e l'estero a livello comunicativo cioè siamo dicevi siamo tanto indietro non stiamo seguendo questa forte crescita questo avanzamento mentre invece all'estero sì in quali paesi di più secondo me all'estero l'apparenza fa fida di essere puliti tutto sono più bravi a mascherare sì allora faccio un esempio mio personale a me capita a volte che si stanno a fare delle convention così alcuni tra virgolette colleghi ah no se c'è i giardini no perché lui è passo dice sempre quello che pensa io vengo con qualsiasi persona che c'è perché non c'ho niente contro nessuno io dico quello che è realmente diverso io non sono lì perché devo dire una cosa perché ci devo fare il compitino no perché non serve niente non è nell'amido non serve niente in Francia invece anche se magari c'è uno che può dire è tutto invidia magari in Francia e in Spagna sono un po' più uniti in questo però secondo me oggi l'Italia deve partire dal presupposto che non ha niente da invidare a nessuno né qualità né in tecnica di chi fa il vino e di chi lo comunica poi per esempio Parma è una delle città dove c'è più consumo di champagne penso tra le prime in Europa per dirvi quindi se al popolo italiano gli piace il vino dico champagne ma parliamo anche di Franciacorta di Oltrepo Trento quindi quello che è il mondo delle bollicine penso che l'unica cosa che secondo me può fare l'Italia in questa fase dove ovviamente oggi secondo me è la numero uno in tutto parlando è proprio battere il chiodo stare più uniti comunicazione dirette semplificazione dobbiamo semplificare a giovani semplicare dobbiamo rendere semplici comunicazione diretta diretta che è un po' quello che fa eccellenza italiana ne stavamo parlando quando mi avete cercato ho visto un po' mi ha spiegato molto bene cos'era subito sì perché a parte che siete un team di giovani molto veloci che arrivate al noccio quando vedo un progetto che arriva al noccio non mi piace perché vuol dire che c'è ancora stimoli quindi sento il vibrato sotto sento ancora a vibrare mi dicono ma te quando smetti quando non sento più vibrare sotto lo vuol dire che da un altro punto invece queste cose che fate questo progetto reale che non è un'iniziativa scusate è bellissimo da come mi avete accolto grazie dal pensiero che avete dalle domande che mi fate non sono le solite domande scontate è più una chiacchierata ancora le interviste qual è il suo vino preferito quando mi dico così gli butto giù il telefono l'altro giorno mi chiamo un'intervista aspetta perché è la prossima no è una battuta l'altro giorno mi chiamo ma scusi Gartini ma secondo lei ancora meglio lo champagne franzacorto dopo ho messo l'utilità aereo dopo ho smesso di chiamare che bello che insomma ti racconti proprio per come sei io sono così posso dire che quello che mi hai detto prima che devi fare diciamo a livello qualitativo in generale l'Italia stavamo dicendo sta avendo una grande crescita una grande forza c'è un livello abbastanza alto io penso al Barolo non sono ovviamente un intenditore però penso al Barolo Brunello di Montalcino vari vini che magari ci invidiano anche penso che sono che cosa rende unico il vino italiano in generale l'Italia l'Italia il nostro paese il nostro paese sicuramente Barolo di Brunello ho fatto degli esempi ti vengo dietro se posso Barolo di Brunello Barbaresco Chianti l'Etna la stessa Etna sono vini conosciutissimi all'estero vanno pasti ma quello che fa anche il wine lover il consumatore l'Italia è che vai in piccole aree e trovi dei grandi vini adesso non so io rilancio per me una regione che avrà un sacco una zona sono l'Irpinia con l'Aglianico si stanno facendo dei lavori pasteschi la pastesca è basilicata con l'Aglianico del Vultore ma tutta l'Italia dove vai dai Trebbiani alle passerine del Pecorino dell'Abruso ogni regione il Verdicchio il grande vitigno bianco ovunque della Valdosta quindi è quello noi abbiamo un panorama di eccellenze tra l'altro poi ovviamente ci sono delle icone come Barolo di Brunello e per fortuna ci sono vini come il Sassicae Massetto Quintarelli dal fondo che sono a Maroni il Tauras è rimasto per fortuna che ci sono queste eccellenze perché ci hanno permesso nel tempo di far conoscere gli italiani e sempre più la gente si è messa dentro il mondo di vino italiano è venuta a venire a conoscere però abbiamo delle piccole realtà o grandi piccole non perché fanno poche bottiglie ma perché lì cresce solo quello che in più di voi non possono fare ma è pazzesco l'Italia in questo pazzesco facciamo un esempio un giochino che era un po' per farti una prossima domanda è l'ultimo giorno della tua vita puoi bere l'ultimo bicchiere di vino di quale quale scegli italiano vino o vitigno come vuoi tu vino bella questa è l'ultimo bicchiere di vino tanto l'ascolteranno un sacco di gente dico quello che piace io bevo un barolo barolo adesso non ce l'abbiamo subito per fortuna non è l'ultimo Poli vai in macchina prende lo spocciamo allora noi abbiamo anche letto tra le varie cose parlando di vini italiani in generale che tu sei un amante di un vino che spesso possiamo dire così è criticato che è il prosecco è vero ma è criticato come quando critichano me tutti perché dico che sono pazzo ma perché fondamentalmente sono pazzo ma sono più bravo il prosecco è un vino che è buono uno dei vini che sono usciti più al mondo se voglio bere un prosecco bevo un prosecco se voglio bere una bollicina fatta come il prosecco bevo il prosecco se voglio bere un metodo classico vado a bere un metodo classico vado a bere Trentodoc Franciacorto oltre il proprio pavese quindi tu comunque bevi il prosecco ma certo ma perché c'è così ma no è un grande vino eravamo curiosi a parte che se vai nell'area del prosecco ci sono poste delle catture fantastiche vai in Valdobbiato vasi poi nella parte di cartista ci sono delle vigne delle pendenze poi come tutti c'è chi lo fa uno stile c'è chi lo fa più o meno buono ma poi si parla solo di stili non è neanche oggi riduttivo anche più o meno buono oggi parliamo di stili che ti piacciono io parlo sempre di stili di vino quello che mi piace più di me non è il vino più buono o meno cattivo a me piace la beva nel vino quindi andrò a cercare sempre i prosecchi più taglienti più salati più immediati magari nei prosecchi magari un po' più dosati però quelli sono stili quindi chi piace lo stile così l'altro non è chi fa più o meno qualità il prosecco io lo bevo sono contento di bere non ce ne fossero e spesso è criticato perché c'è uno su tutti che spacca che siamo il Collesel questi due fratelli giovanissimi uno di 28 uno di 33 34 anni che hanno questa vigna che si chiama Tridic quota fa questo prosecco quasi 480 metri come hai detto che si chiama Collesel Collesel è buonissimo poi c'è un altro ragazzo che è Perlage che è Alberto gli altri due si chiamano Antonio e Vladi invece Alberto che c'è questo lavoro in questa azienda che è da 30 anni che fa biologico vero si chiama Perlage poi ce ne sono altre altre però questi che vedi sono ragazzi giovani che si impegnano vanno a tirare fuori meglio da quella vigna e in quella vigna ha tirato fuori meglio in quell'anno è un grande vino sì è un grande vino me lo bevo poi uno beve quello che vuoi quindi io bevo il prosecco ci piace te l'abbiamo fatto dire perché poi l'avevamo letto glielo facciamo dire e che differenza c'è tra un vino italiano e un vino francese questa la dovevamo fare questa domanda non puoi buttarci giù il colore della bandiera è sicuro ecco la grande differenza non c'è differenza però penso che in Italia oggi prendendo dentro una certa cifra bevi grandi vini in Francia per bere veramente bene le cifre sono molto più alte ok quindi anche il rapporto qualità prezzo è importante io ho fatto per tanti anni tuttora lo facciamo una classifica sui vini sotto i 15 euro quindi si chiama una classifica sotto i 15 euro e ti posso dire che ogni certo punto trovi dei vini da 10-12 euro che sono delle canonate poi dipende sempre che cosa vuoi bere quel giorno la pevuta che vuoi fare cosa ne pensi del tavernello io ho fatto la pubblicità con il tavernello eravamo io Pippero del Pippero Res Marcio Capotone e Andrea Gori questa me la sono persa abbiamo vinto la miglior pubblicità sul vino da un uomo aspettetto è uno scherzo divertente c'era Marcio sono molto curioso vado a vedere eravamo io Alessandro Pippero che è questo mio fratello di estorante Pippero a Roma una stranissima lui famoso in tutto il mondo per la sua carbonara e l'altro è un collega sempre amico che è Andrea Gori che lui è stato diciamo un po' il sommegno informato ho chiamato così ma però molto bravo poi c'era Marcio che faceva e c'ero io certo e quale può essere il segreto oltre diciamo al prezzo conveniente che uno può dire mi avvicina a quel prodotto lì qual è il segreto del tavernello allora il segreto del tavernello è che è fatto adesso voglio usare un termine non troppo forte ma prendetelo con l'inveniente è fatto sempre a partire di tutto c'è una pulizia e quindi a livello di sanificazione sanitario è unico perché sennò avvenire qualcuno ma in quella tipologia in quella tipologia quindi cartone vino in tete dove fa non so grandi quantità quantità ma non ci sto neanche dietro e ha una tracciabilità perfetta da dove vengono le uve come vengono sanificate vengono vendemmiate poi tutto diciamo il processo è molto tracciato quindi tu mi dici la qualità in quel segmento è buono poi ovviamente non competirà mai con i grandissimi vini però nel suo segmento è un vino fatto onestamente quindi quello può essere io non ti sto dicendo che è il mio miglior vino al mondo sì sì certo quando ho fatto la pubblicità mi pensavo che uno fa adesso Gardini Gardini non ti ho detto che è il miglior vino al mondo ho fatto una pubblicità di ogni vino sai dire qual è la qualità tutti usiamo il tavernello che fa schifo ma lo usiamo per far da mangiare allora te cosa cucini con un vino che fa schifo gli ho detto uno e di Roma ammazzato perché si dice il tavernello usiamo il tavernello non bella il tavernello ma lo usiamo per far da mangiare perché non è buono questo la gente dice lì gli hai dato la saccagnata gli ho detto sì allora cosa vuoi dire che te cucini con un vino che non fa schifo e lì la saccagnata gli ho dato uno o due finché non diventavo dispori gli davo dei schiaffoni pavoli finché non diventavo dispori perché se la gente purtroppo non è capace di avere un suoio di coerenza e di dignità ma secondo voi Gardini è così stupido che dirà che il tavernello è il mio vio al mondo in un certo il tavernello nel suo segmento è un vino che non ha è uguali ma lui non vuole neanche il mio vio al mondo vuole essere il miglior in quel segmento e c'è riuscito un mercato diverso e c'è riuscito quindi tanto di cappello al tavernello ottimo quando sei diventato sommelier tu? quando sono nato con il San Giovese dei Piperoni lì quindi anno zero della tua vita piedina frullata San Giovese dei Piperoni no sono diventato sommelier nel ormai non ti ricordo no 98 e cosa fa la differenza secondo te poi nel ruolo in questo mestiere in quel ruolo la semplicità la semplicità il divertimento la condivisione renderla leggera ma di grande qualità e crederci crederci non da invasati oh c'è gente che sento senti qua il mango poi la papaya poi la fragola poi il pompeo ma se vuole l'insalata di frutta è andato fruttivendo c'è tutti i frutti di un vino sentori di rugiardo sai sentori di rugiardo cioè cavolate e se tu ci senti la pesca ci senti la bicocca chi dice che ha ragione ma che abbiamo invece i punti di forza che deve quel vino perché magari è più tagliente teso ti entra più come una freccia mentre ti entra meno come una crema perché viene da un terreno calcato che gli dà la parte della sanità la sanità è una condition della beva la tensione perché magari è un vino di altura là è un po' più denso spesso perché viene un territorio un po' più caldo parliamo di questo poi se tu senti la prugna e la mela cavolo ha ragione chi lo determina se io la mela non ce la sento e ci sento la prugna io ho fatto una degustazione una lezione barra degustazione dove mi dicevano senti di più le piante senti di più la frutta e poi è tanta immaginazione anche un po' è tanto sfera è che adesso siamo quelli fascia protetta non ti posso dire che se tu non ci sento io nel vino a volte però ma forse vi ha capito bisogna stare un po' c'è anche tanta immaginazione ci vuole poi è ovvio che ecco quello che ti posso dire invece è questo che ci tengo quando dicono il vino aprilo fra tre ore che cambia allora mi abbattuta dico se ma anche se apri un San Crispino ti diventa uno scettore di Cam non per sminuire il San Crispino o perché il scettore di Cam è il migliore vino al mondo tutt'altro il vino non migliore il vino cambia col tempo perché magari se non è un vino statico cambiano i profumi quindi il vino nel tempo non migliora il vino che si è grande è grande fin da subito l'è che fra dieci anni è migliore cambia tu vuoi un vino giovane lo bevi grande questo è anche un luogo comune che stai ribaltando no no fa dieci anni il vino non è che migliore cambia cambia gusto si appiano i tannini cala l'acidità i tannini magari meno tannini meno incisivi ma tannini magari un po' più eleganti ma se a me mi piace i tannini incisivi vuol dire perché te non ti piace vuol dire che il vino migliora cambia cioè non è che se metti cioè Valentino Rossi era grande fino alla minimotto non è che hai diventato grande a 40 anni sulla MotoGP quindi se tu la materia che metti è grande nel tempo quella materia cambia non migliora cambia il cambiamento non vuol dire che è meglio o peggio a seconda di ogni palato per me è meglio avere un barolo poi ricordatevi questa cosa alcune etichette magari per te migliorano la grande caratteristica di un vino la riconoscibilità di un vino di un vitigno di un territorio ce l'ha nei primi 4-5 anni di vita se vuoi conosci il vitigno di quel territorio quindi nebbiolo che dà vino barolo nei primi 5-6 anni di vita è la massima espressione di impronta stilistica e timbro aromatico perché ancora in queste situazioni che insegno delle gran cavolate non esiste vino aromatico tutti i vini hanno il loro timbro aromatico che li riporta a una riconduituità e a un'impronta stilistica e a ricondurre il territorio è un vino quindi tutti i vini hanno il loro timbro aromatico che io pieno marcato ma ce l'hanno se no non lo riconosci se no non ci arrivi a individuarlo e la massima espressione di un vitigno quel vitigno ce l'ha nei primi 4-5 anni di vita perché dopo cosa hai? una tonazione e una armonizzazione di gusto di quel vino ovviamente certo e che consigli daresti per diventare un sommelier non dico come te perché poi ognuno è diverso ma per fare questo lavoro bene come le cose le hai già dette una bella sbronza ogni tanto ci sta sicuramente girare tantissimo non soffermarsi se mi piace se non mi piace staccare io ho dei voti alti vini che sono buonissimi ma non mi li berrei a casa ma non perché non mi li berrei a casa vuol dire che non è grande vino questo invece tanti critici non lo fanno tanti su me non lo fanno perché pensano solo il loro gusto personale ed è sbagliatissimo sbagliatissimo io ci sono dei vini a cui ho dato 100 centesi di tutto adesso ho intanto che punteggono ho 110 centesi per proprio quei vini che fanno l'upgrade alzano la sticella entrando la storia ho avuto diventato un nuovo punteggio che è come 110 lode con l'ud ok però non è che c'è un vino che mai la sera non me lo berrei ma perché non è il mio stile di bevuta non sto parlando di qualità non vuol dire che non è buono io li ho 800 però non me lo berrei la sera invece tanti critici no questo no perché perché non piace loro no poi dopo li vedi che divento poi perché quando mi vedo in me dico ma scusa visto che non è buono cosa fareste per migliorare rompere i denti che cambiano il colore come i camaleonti verde là sopra perché non sa non do dire perché non mi piace non so ma come si fa per migliorare cosa ci faresti tu dimmelo dai parla ci hai visto che sei così ah vedi che stanziti si abbassano la testa diventano rossi e si mettono a scrivere poi scrivono delle gran castate ovviamente ci piace molto insomma il tuo modo di comunicare e forse questa è davvero la tua forza che stai dimostrando anche in questo podcast e prima parlavi di associazioni che dicono a volte delle cose magari non proprio corrette ma non più che corrette che differenza c'è magari tra federazioni associazioni ma guarda io non ci sono differenze io le rispetto tutte perché anche anch'io sono fuori della situazione che l'ha mi ha dato un'infarinatura bellissima e ne posso parlare solo che bene però secondo me il concetto che c'è oggi di varie associazioni è un concetto vecchio antico che va sdoganato vanno tutti i dogmi e soprattutto cioè sono antichi antichi nel comunicare adesso sono fuori di nuove terminologie che quando le ho viste sto leggendo bene pensavo aspetta che bevo un po' di vino che magari mi sveglio quello lo fa sempre bene in generale è sempre là però per dirgli adesso non siamo qui per parlare mai di nessuno però se non senti quello non ricorda quel vino quello quello il carciofano quel vino l'abbinamento cioè fuor grai sul termine perché si dormi e poi non trovo che in tante stazioni non c'è il riciclo cioè la gente non è preparata non è aggiornata il problema sai cos'è tu fai i corsi di aggiornamento no 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 io se mi scrivono mi scrivono un sacco di ragazzi giovani allora in privato gli rispondo a tutti quando posso a volte mi scappa qualcuno magari dicono ah no dici che rispondo a tutti ma non risposto ogni tanto scappa perché poi però sei molto disponibile ci sono tantissimi i social non li seguo io ho una persona o due persone che mi li seguono perché perché è giusto ognuno deve fare il suo lavoro certo io sono più bravo a un bicchiere in mano che sui social io ho il studente che lo fa per me sono bravissimi e ovviamente tutto coordinato tutto condiviso però ti capita che ti scappa qualcuno però tendenzialmente sono una persona conosciuta disponibilissima perché non doveva essere non c'è neanche gli dico sempre anche l'altro ieri l'ho mangiato a prasa l'altro è stato ieri a Impoli in questo istante erano tre persone una dietro l'altra ma lei se veramente sei il mio idolo posso fare la foto ma ma veramente posso fare la foto guarda che io non ho mica fatto la pillola che ha salvato la gente dalla morte mi sono impianto perché non lo riesco pare che mi fa piacere anche a me capito l'umiltà anche dai ti contraddistingue parlando ancora di valori e poi essere così semplici adesso io rispetto tutti è importante la cucina e tutto ma secondo me a volte parlo anche per me perché anche io sono in tv sempre sui giornali però a volte troviamo troppo un estremo noi facciamo un lavoro fatto bene siamo impegnati magari l'abbiamo fatto meglio di altri la classica frase che si dice non salviamo vite infatti io secondo la viola li ammazzo perché faccio bene tu sei in grado di attribuire una fascia di prezzo assaggiando solo un vino così alla cieca non abbiamo quello si perché in base alla qualità che è no la fascia di prezzo si si e no solo assaggiando se si tratta di indovinare il vino si la fascia di prezzo ovviamente con l'esperienza che ho posso trovare a capire quale è il re perché lo senti se è un vino grande ma è grande che è costoso perché o è grande per la sua tipologia capito però al vino vale il vino più pregiato più costoso che hai che hai assaggiato posso dire ti rispondo così che con tutto quello che ho bevuto mi sarei comprato 3-4 appartamenti a San Morgon quindi sono diversi i vini anche molto pregiati avevo avuto la fortuna di lavorare da Pinchiorri quindi ho bevuto delle bottiglie tipo mi ricordo un magno di Lafitte 47 un magno di Ceroleban 47 Cruy Collation vecchi delle Romani Conti poi beh sono uno che spendo anche tanto quindi vado in giro bevo sempre bene bevo quello che mi va l'altro giorno mi sono butto un fantastico dolcetto e mi fa perché è buono voglio di bermi dolcetto l'altro giorno la lacrima di morro poi l'altro giorno dopo sono andato a prendere un grande bordeaux se devi scegliere vino rosso o vino bianco bolla o rosso rosso quindi domina non me ne vogliono quelli che fanno le bollicine bianche vi amo anche voi vi bevo e d'altro io faccio sempre così faccio un americano appena arrivo al ristorante ecco come ti muovi dai oggi c'è un pranzo allora arrivo dal mio amico dell'alchimia in Viale Premù dalla stella Michele dal mio fratello Tasinato vado lì c'è un bravissimo bar ma va lì mi faccio un bel americano un'antica forma e si chiacchiera un attimino uno o due e facciamo gli chiedessimo un bel salame in punta di coltello con una pezza di panino e via poi prendo un bianco freno perché a me piace poi faccio ovviamente siamo in tanti non sono da solo la coppia e prendiamo un paio di rossi non guardo mai l'abbinamento guardo in base quello che mi va di bene e poi finisco con la bollicina per ripristinare la bollicina per ripristinare un po' tutto poi poi si inizia poi si inizia anche se è un periodo che adesso vado molto di mescale mi piace molto la mescale ma come mai cioè solitamente adesso parliamo di rosso bianco uno entra al ristorante si è in gruppo e si pensa oh ragazzi cosa mangiamo pesce allora vino bianco cosa mangiamo carne allora vino rosso perché c'è questa questo luogo comune questo schema mentale questo è il classico esempio di loro però ormai come facciamo ce lo portiamo avanti così noi dobbiamo aggiungere il pesce clou ci beviamo il barolo fresco vero Poli no ma perché ripeto allora il vino con il gelato no il fuoco grasso il vino con il sotter il vino con il carciofo no il pesce apprende tutto anche lì vino a temperatura ambiente se fuori l'estate fa 90 gradi cosa abbiamo il vino brulè se il vino va bevuto alla sua temperatura giusta che i bianchi sono da degustazione abbinamento sono 8-10 gradi le bolle 7 i rossi 14 che poi dopo poco meno nel bicchiere che arriva 15 16 un attimo capito quindi no uno deve bere poi ci sono tanti i vini rossi che vanno bene col pesce i nebbioli che non fanno legno quindi perché il nebbiolo faccio alcuni esempi così aiutiamo il nebbiolo dei dolcetti le lacrime di morro il lambrusco che è una bollicina ma è sempre rosè dei rossi di montalcino il rossi di montalcino è servito fresco col pesce è fantastico poi adesso io ho lanciato la moda di bere il vino rosso fresco fresco perché ci sta perché poi lo mette in bicchiere va su due gradi subito appunto e c'è tanto c'è un'azienda che ha fatto incazzare questo sanzovese romagnolo fantastico dei miei amici ottaviani e abbiamo fatto un tour incazzare aveva servito freddo e adesso ma in spiaggia abbiamo incazzare col pesce avete lanciato la moda ma la moda però è giusto poi ormai non c'è più ragazzi Davide Paolini adesso il gastronato che sono 24 ore 10 anni 15 anni fa ha lanciato il panettone a ferragosto sotto l'ombrellone ormai non c'è più stagione per il panettone ma neanche per i vini uno beve io sono uno di quelli che il panettone lo mangia tutto l'anno uno deve bere e mangiare quello che vuoi punto invece argomento sempre sui luoghi comuni molti bevono il vino con la pizza e molti dicono no ma come fai a bere il vino con la pizza ma il miglior vino da abbinare con la pizza il grignolino d'asti il grignolino d'asti adesso appena andiamo a mangiare una pizza lo provo e quindi anche tu quando vai a mangiare una pizza spesso bevi il vino quando mangio la pizza io bevo tutto intanto che io pasteggio gin tonic ricordiamo solo una volta dobbiamo far bevete responsabilmente quello sempre no ci stava pasteggio gin tonic non è che io ne faccio 18 me ne faccio uno con una pizza così però ho detto una volta magari perché prendo dei gin tonic profumati poi ci mettiamo gli aromi le toniche particolari non so magari vado in queste pizze di gourmet dei miei amici prendo una pizza gourmet mi abbino un gin tonico a volte l'ho bevuto con delle birre particolari ho bevuto vino rosso con dei cocktail anche adesso Don Carella che è questo bar famosissimo qui di Milano che fa i binamenti con i cocktail per me è un genio lo stimo tantissimo quindi è giusto supplementare non è che se uno beve un cocktail vuol dire che è più ubriaco che beve un bicchier di vino cioè materia prima chiusa è buonissima quindi è la concezione è ovvio che bisogna bere responsabili con la testa bisogna bere anche io ho tre figli mica voglio ammastrarmi di alco però c'è c'è quella volta che mi bevo un bicchietto e c'è la volta che mi bevo anche tre ma se vado prato in un ristorante mi mangio 30 pasti faccio questi minuti 8-10 portate l'importante è non guidare dopo quello non hai questo te lo posso dire per lanciare il messaggio poi correttamente questo te lo posso dire guarda infatti mio amore dice sempre non so quali soldi ti spesi bene quando vuoi in tassi io non vado male anche se bevo due bicchieri guarda ho questa regola fin da sempre perché è giusto è giustissimo però sarei disonesto dire che quando vado al ristorante che sono la possibilità che sono i tassi o dormo nell'hotel dove c'è il ristorante o viceversa i due bicchieri in più mi bevo ma perché se devo mangiare 7-8 piatti provo anche l'abbinamento e tutto poi magari non sono bicchieri così perché bisogna anche la quantità magari sono tre bicchieri così capito tu sei dell'Emilia Romagna spesso per lavoro immagino che giri tutta l'Italia tutto il mondo e parlando di regioni nei vari spostamenti quello che fai e dove ti muovi la regione italiana che ti ha colpito di più ultimamente parlando di vini o magari di cui sentiremo parlare in futuro la Campania con l'Irpinia e la Basilicata con il Vulture e poi l'Etna quest'ultimamente ti ha si è l'Etna da sempre fra questi due molto tanto poi mi piace la parte del Carso no tanto ci sta bene poi vabbè io ho girato veramente tutto quindi ma guardando il futuro di quali regioni tre regioni Calabria con il Ciro e non solo Ciandizia con il Ghiagliopo ma gli occhi dell'Ultore e l'Irpinia con l'Ariano con il Piedi Rosso quindi Calabria Calabria Campania e Basilicata Campania Calabria e Basilicata Vulture Basilicata Ciro con altri vitini e poi ecco invece devo dire un vitino siamo a sud quindi è un vitino che credo tantissimo è la Verdeca Verdeca c'è un giovane produttore Giovanni Aiello che sta rilanciando la Verdeca in Pugliese fantastico fai tante cose sei un sommelier sei partecipi immagino a fiere eventi non tantissimo ma tu hai progetti futuri su cui ti concentrerai principalmente se puoi dirci questa sfida che ho che sono stato il nuovo curatore delle guide dell'espresso dei vini è stata una sfida che mi hanno proposto come critico sempre curatore critico di vini proprio che stilo la guida uscirà il 26 giugno poi vabbè sempre puntare sul mio sito Gardino notewine killer che oggi è un sito solo in inglese è un punto di riferimento poi sono uscito ad ottobre con un libro bellissimo i bicchieri d'argento che è della casa editrice del cucchiaio d'argento che ha avuto un successo stratosferico abbiamo già fatto anche la ristampa dopo pochissimi mesi che nessuno sa l'aspettare bello complimenti e poi me le creo le possibilità quindi sicuramente comunitare sempre di più una mano al mondo del vino stare vicino ai produttori comunicare vicino a più gente possibile in maniera sana onesta e consapevole sia nel studiarlo che nel berlo e degustarlo e continuare la carriera che ho fatto arriverà a un punto che finirà questo lo so ve l'ho già messo in conto ma è giusto così i tuoi figli quanti anni hanno? ah i miei figli sono c'è una femmina che è grande che è 17 poi c'ho mio figlio Riccardo 10 e Federico 7 e mezzo 8 e piano piano secondo te riuscirai a cioè a trasmettere questa passione loro devono fare quello che gli vanno la vita certo però dico in qualche modo un po' vivendoti assorbono la potenza quindi è veramente un killer all'inizio invece ormai è grande per la sua vita quindi loro devono stare bene di loro possibilità di studiare quindi devono essere contenti loro certo bello bel concetto anche io da neopapà approvo e chiudiamo dai ti faccio questa domanda e poi ci salutiamo se vuoi lasciare qualche messaggio ma ti dico meglio un vino buono da solo o un vino mediocre in compagnia prossima cosa io bevo un vino buono eh no non vale vino buono da solo oh va bene ringraziamo Luca Gardini grandissimo simpaticissimo e in bocca al lupo ancora per la tua per la tua carriera se sono altre puntate mi invitate vengo volentieri perché siete bravi ci facciamo trovare pronti la prossima volta la prossima volta magari facciamo si gustiamo molto volentieri adesso portiamo un po' di ferri del mestiere questa è la prima diciamo stagione di al dente quindi andrà avanti questo progetto per me è il termine al dente proprio mangio la pasta dove lo spaghetto quasi non sono l'altro perché deve essere al dente quindi mi piace proprio questa volta abbiamo solo apparecchiato la prossima volta ci facciamo trovare pronti grazie ancora Luca Gardini e chiudiamo qua questa puntata di al dente grazie a voi grazie a tutti